Ciao a tutti, il mio nome è Nicoletta Santaniello e sono una ex studentessa liceale. Ho frequentato per cinque anni il liceo linguistico e le lingue che ho studiato sono state l'inglese, il tedesco e il francese. Dunque, prima della mia scelta scolastica non avevo una vera e propria vocazione e le mie idee rispetto al mio futuro lavorativo o anche semplicemente universitario erano molto vaghe. D'altra parte, posso dire che l'esperienza liceale mi ha certamente aiutato a diventare una persona più, potremmo dire, resiliente o comunque capace di uscire dalla propria comfort zone e di adattarsi a contesti ben diversi dal proprio. Fondamentale da questo punto di vista è stata sicuramente l'acquisizione di un buon metodo di studio che mi sta ora accompagnando durante la mia esperienza universitaria. Più precisamente sono iscritta e frequento dunque la facoltà di ingegneria gestionale presso il Politecnico di Milano. La mia idea sarebbe dunque quella di diventare un ingegnere, cosa che non avrei mai neanche lontanamente immaginato all'inizio del mio percorso liceale, soprattutto considerando la diversità dei contenuti di studio. Sono infatti passata da studi prettamente linguistici e dunque umanistici a studi di tipo scientifico. Il cambiamento è stato abbastanza brusco e ho avuto bisogno di tempo prima di, come dire, mettermi in carreggiata. Ma non mi pento assolutamente della mia scelta liceale, anzi tornassi indietro, credo che la rifarei volentieri altre mille volte, soprattutto perché è stata una tappa fondamentale nel mio percorso di crescita personale. Detto ciò, auguro a tutti voi una buona esperienza liceale. Vi invito a godervi a pieno questi anni e a non aver paura del futuro. Alla conclusione del vostro percorso vi renderete conto di essere in grado di poter intraprendere veramente qualsiasi cammino, anche se ben diverso da quello che vi state lasciando alle spalle. Dunque, godetevi al massimo questi anni e in bocca al lupo, ragazzi. Ciao!